Grazie a tutti. I complimenti dei ragazzi hanno dimostrato l'attaccamento alla maglia e la voglia di ottenere questa promozione spettata dai tifosi o tarantini perché non è mai stato in promozione. Spero di farlo io visto che sono un tecnico o tarantino e mi farebbe veramente piacere. È stato un episodio determinante perché chiaramente fare tutto il resto della partita in dieci con una squadra che sapevamo che era ben attrezzata e sapevamo le potenzialità. È stato molto difficile, è stato determinante quell'episodio. Alla fine comunque abbiamo continuato a giocare perché comunque sapevamo che facendo un gol rimanevamo ancora in corsa, quindi tutto sommato non era il problema. L'episodio poi del secondo gol è stato determinante. Comunque sull'1-0 ancora qualcosina ci credevano, ma anche se stavamo andando in difficoltà chiaramente. In periodità numerica, caldo, qualcuno che aveva dei problemi, però eravamo ancora in corsa. Poi il secondo gol, quindi certo diavolo il danno. Poi! Andiamoli a casa! Andiamoli a casa! L'ho sblocato il risultato al primo tempo, era quello che era il mio. Speriamo di continuare così e di vincere in questo campionato perché c'è stato tra virgolette un po' rubato, anche perché siamo stati in testa fino alla fine, ci siamo fatti sfuggire questo primo posto, però purtroppo il calcio è così. Va bene, ti ringraziamo.